Torna Chieti in strada, Antonello Angiolillo, uno degli organizzatori di questa manifestazione, nonostante tutto, insomma, anche quest'anno ci sarà questa importante manifestazione nel centro di Chieti. Sì, nonostante tutto, perché le difficoltà non sono poche per tanti motivi, senza entrare in colpevolizzazioni varie. Ritorna, ritorna con circa 68 artisti, persone fisiche, poi ovviamente sono gruppi da sei, da due, da tre, insomma, poi come gruppi artistici sono meno. Da tutte le parti del mondo, da quattro continenti, e abbiamo cambiato un po' di artisti che erano fidelizzati, alcuni non ce l'abbiamo fatta perché sono talmente richiesti che, tipo il Cote o i Kezelcoat che lavorano col fuoco, perché sono veramente richiestissimi. Altri abbiamo un po' puntato su questa cosa, perché è giusto anche, così come il pubblico è stato educato ad avere Chieti in strada quando a Chieti non c'era niente, educarli anche a un cambio di genere artistico, insomma. Sperando che poi piaccia e quindi l'anno prossimo reinvestire in queste modifiche. Importante la collaborazione, oltre che con il Comune, anche con gli esercenti di Chieti, cioè fare squadra, fare gruppo. Assolutamente fondamentale e spero si faccia più gruppo di quanto non si è fatto fino ad ora. Quest'anno sicuramente c'è stata una migliore partecipazione degli altri anni, in tanti termini, anche semplicemente aprendo, abbellendo le vetrine chiuse, illuminandole. L'importante è che la città sia viva, perché chi arriva qua deve vedere che è una città che ha tanto da offrire e deve aver voglia di tornare. Quindi il discorso è quello. Poi è ovvio che essendo una manifestazione in parte sponsorizzata dal Comune, in parte sponsorizzata da sponsor privati, è ovvio che chiunque voglia aiutare fa parte solo del gioco, nel senso che accettiamo tutto da tutti, in qualsiasi forma ovviamente.